ciao a tutti oggi prepariamo insieme dei dolcetti senza cottura semplici e super veloci da preparare all'interno di una ciotola inserite 100 grammi di cioccolato fuso e 25 grammi di complex mescolate bene tutto dopo aver mescolato bene il tutto prelevate dei piccoli mucchiettini posizionateli su una teglia su un vassoio rivestito con la carta da porno poi lasciate riposare in frigo libero per far apprendere il cioccolato con questa dose a me sono venuti 5 ma potete farli della grandezza e della forma che preferite ed eccoli qui dolcetti pronti per essere gustati come avete visto sono semplicissime super veloci da preparare perfetti per una merenda colosa mi raccomando provateli ciao a tutti alla prossima ricetta